Un interrogatorio fiume della durata di 5 ore di fronte a un ufficiale e due sotto ufficiali del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza. Antonio Torricelli, vicepresidente PD del Consiglio Comunale di Lecce, aveva chiesto di essere ascoltato e così è stato per primo a inaugurare la settimana di interrogatori che si è aperta nell'ambito dell'inchiesta sull'assegnazione delle case popolari in città, dalle 9.30 fino al primo pomeriggio negli uffici di Piazzetta dei Peruzzi. Pensiamo di aver dato un buon contributo rispondendo a tutte le domande, dice Luigi Covella, illegale, che ha accompagnato il consigliere che invece ha preferito non commentare. Per quanto ci riguarda e per quanto ne sappiamo, ha aggiunto Covella, ciò di cui parliamo trova facile corrispondenza negli atti amministrativi del comune. Delibere, determine e altri atti sono sotto la lente degli inquirenti che dopo le perquisizioni domiciliari, aziendali e negli uffici comunali l'8 giugno scorso hanno fatto sequestrare anche i PC dei quattro indagati. I PM Antonio De Don e Antonio Negro hanno formulato ipotesi di reato non da poco. Associazione per delinquere, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, abuso d'ufficio, falsità materiale, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e ancora la truffa. Di questo, in concorso tra loro, rispondono anche l'assessore al traffico Luca Pasqualini, il cui interrogatorio è previsto per le prossime ore. Il dirigente dell'ufficio patrimonio Pasquale Gorgoni, che sarà ascoltato venerdì, oltre ad Attilio Monosi, assessore al bilancio, il cui interrogatorio slitterà la prossima settimana. L'inchiesta è partita in seguito all'esposto presentato durante l'ultima campagna elettorale per le amministrative da due esponenti del Partito Democratico, Antonio Rotundo e Teresa Bellanova, e riguarda fatti che si sarebbero compiuti tra il 2012 e il febbraio 2015, relativi a presunti favoritismi nell'assegnazione degli alloggi a cittadini che non avevano i requisiti a scapito dei legittimi aspiranti.